Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In Filippili un chilometro di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno. Sulla strada provinciale 16 Chianti-Valdarno siamo nel territorio della città metropolitana di Firenze, senso unico alternato per il restringimento della carreggiata al chilometro 0,600 nel comune di Greven Chianti fino al 31 dicembre. Per la viabilità cittadina a Firenze sul ponte Vespucci lavori di riqualificazione dell'impalcato e della pila destra, arriva anche la pista ciclabile. Sempre a Firenze per i cantieri della tramvia da oggi interventi sui semafori tra Via Le Strozi e Via Lorenzo il Magnifico. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!